Musica Ciao Daniel! A posto! Benvenuti al nostro matrimonio Noi siamo contentissimi di questa giornata A posto! Spero che vi divertite anche voi tanto Poi tu, dici la tua Va bene, va bene Benvenuti Benvenuti al nostro matrimonio Spero che vi divertite Come ci stiamo divertendo tanto anche noi Grazie a tutti Un in bocca al lupo Diamo un bacio per auguri a tutti Ciao! Ciao! Poi dici tu Pozzi Tanti auguri Francesco A te e a Tonio Ti ha inguagato, ti ha arruinato tutta la vita tua Tanti auguri sposi di una vita serena E' ricca di gioia Auguri! Tanti e tre Vado? Cari figli miei Vi facciamo tantissimi tantissimi auguri E tanta felicità Da vostra Francesca Da vostra madre Anna E' da colomba E' da colomba A posto Io ho spettato il turno Ah, ci ho spettato il turno Ma è live Sbattere le mani Sbattere le mani Sbattere le mani Tanti auguri e ti raccomando Sbattere le mani 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 Ti dico tanti auguri Francesca e Tani Poi dico Francesca, tu ti ha inguaiato No, aspettere Ma è l'ho Ti ha inguaiato Perché tu hai già come a mia zera E ora proprio sei proprio a monizia E' questa non è l'ha Sbattere le mani Sbattere le mani E' andato? Tania e Francesca, questo è un messaggio per voi Questo giorno è solo l'inizio di un percorso Ma è live Che durerà per tutta la vita Sbattere le mani Tania, cosa ti aspetta stasera? Sbattere le mani Sbattere le mani Tania, ma tu sei convinta di quello che stai facendo? no no. Allora tantissimi auguri che la vita vi possa riservare tante cose belle. Auguri! Ciao Cugino tantissimi auguri per questo giorno così speciale per te e anche per noi. Ti vogliamo un mondo di bene e ti auguriamo tantissima felicità. Auguroni! Eeeeeeehhhhh! Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Di là di là di là con il momento? Si va bene. Tantissimi auguri a Lombardi Francesca, a Tanja, a Danja. Inoltre? 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 Sei già già qui fuori. Precce! Niente poi? Frenzie! Con il peccanile! L'hai guarda! Di là di là di là con il momento? Si va bene. con un pietiere ecco si è a Guri che è esposa è a Guri che è esposa, è il figlio masco il masco è a Vemana o Dimi, potessi esposa se si fanno qualcosa a casa quando panno gannino di caldo gannino di caldo gannino perché è un guburino se sei o tu per farlo è un guburino è un pietiere è un guburino è un guburino di caldo è un guburino di caldo è un guburino di caldo saluti ciao c'è tanta belle cose ma mangi un rimamo, io sto ciao ragazzi ciao ragazzi tanti auguri tanti auguri Tania ti voglio bene, un bacio ricordati io non lo voglio, non lo voglio Tania non potevamo mancare al vostro matrimonio auguroni Tania e Francesco siete speciali un bacio ciao un bacio auguri agli sposi auguri auguri vi auguro tanta felicità e di vero cuore io volevo sempre dire queste parole però oggi è arrivato il momento di dire sempre di guardarvi negli occhi come oggi e come sempre auguri auguri ti vogliamo molto di bene e spero che questo giorno concludi tu questo giorno si va bene sia indimenticabile per te alla tua no guarda qua no mettere in mano allora qua è la ricca allora non mi ha messaggiato i cani ci ho mandato due pure i due ragazzi ma io ma io però puoi subitire se non subitire quando ci sono brioche allora io mi voglio battere in mano tu dici tanti auguri amore mio ma battere in mano tanti auguri amore mio Tani tanti auguri dal nostro Francesco auguri però c'è questo fatto che ha gagnato atteggiamento c'è anche una macchina non mi è piaciuto non mi è piaciuto non mi è piaciuto non mi ha migliorato non mi fa gusti non mi ha migliorato applausi ciao Francesco tanti auguri e Tani anche un auguri fortissima Salve buongiorno buongiorno tanti auguri agli sposi tanti auguri agli sposi tanti auguri agli sposi due parole che la vita mi possa sempre sorridere per cento anni ahahah non rimane un figlio scappa la pipì e se non è un bagno ahahahahah auguri per cento anni agli sposi ahahah auguri auguri su discorso zio eh quale discorso dobbiamo fare figli maschi figli femmi ahah figli maschi sono maschi ma pure femmine non bambini non bambini ma compagni per la donna ma vuol dire che c'è 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 c' tanti auguri è che devo dire un romanzo una canzone non facciamo sempre i pagliacci levate il lente però levate il lente sono una parabrotta levate il lente sono una parabrotta come è il pozzolotto? cosa ha fatto? dici quello che hai detto prima sono ripetitivo non l'ha ripresa non l'ha ripresa tanti figli la squadra di pallone più le riserve più l'allenatore che la vita vi possa sempre sorridere siate sempre felici ma che poeta di cucina? non va appiccicata mai la posso spruzzata già stasera succederà non vi preoccupate ah mi raccomando non mi ammuczo la coppia di capilla tu faccio la fila e mezza ti devo vendicare non mi raccomando non mi ammuczo vabbè auguri ci fa l'applauso auguri al mio cucino Francesco tanti auguri e buona felicità non mi ha avuto ammucZani blindisi lo faccio io per te d'acqua auguri ai sposi ma c'è danno c'è danno fin di mace da sera ma poppo mamma tutta la sera ma che ho pigliato sotto mi t'attene a sotto il tuo occhio ma che bella cosa ma che bella cosa grazie auguri ai sposi a Tania e a Francesco grazie auguri è serio auguri Francesco auguri Tania tanti auguri tanti auguri non c'è qualcosa per cento per cento figli figli è buono ma buono non ti ho scordato i pallarini pure i 4 non va niente pure i 4 non va niente va bene auguri ciao 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 tanti auguri tanti auguri di una vita felice di una vita felice insieme tanti auguri di una vita felice insieme auguri auguri allora eccoci qua fanno capire i passi pur cadendo ma un grande augurio a Francesco e Tania Francesco ti dico una cosa ma chi cazzo l'ha fatta fa tu guarda di questo video tra 5-6 anni mi darai ragione mori ciò a bu ma è tutto bello tutte le settimane viaggi in os e tutto tu resta presa mamma tutta la sera tra 3-4 anni scoprirai 40 sposate a tua moglie mamma tutta la sera ma a tua suce la state pure Antonio Magherini ciao allora grazie a tutti siete tutti centini tutti belli grazie mille complimenti a tutti vi ringrazio per essere presenti per chi è presente vi ringrazio di vero cuore un bacione a tutti e un bacio ce lo diamo anche io a lei questo bacio è per voi ciao buona fortuna a tutti